Sì, è arrivata una bella vittoria, convincente, e niente, contro una squadra forte che comunque ha costruito un organico per il nostro stesso obiettivo, abbiamo giocato una buona partita e poi è arrivata la vittoria ancora meglio. Sì, i numeri dicono questo, a parte la partita con il Montevarchi, dove già si è detto tutto, è una squadra che comunque in trasferta si fa sentire. Sì, stiamo cercando di recuperare terreno perché abbiamo avuto qualche battuta d'arresto all'inizio e dobbiamo continuare così, con la convinzione di poter fare bene, stiamo crescendo anche nel gioco espresso, a Pescara si è visto e quindi dobbiamo continuare così. Ma la città è bellissima, qui si vive bene, e niente, anche la mia famiglia è contenta, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Sì, andremo in un campo ostico, vedremo anche le condizioni climatiche come saranno perché dicono che c'è sempre vento, però noi dobbiamo continuare questa rincorsa.